Eccoci qui, un saluto a tutti come state e ben ritrovati, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like prima di iniziare, di commentare numerosi e vi chiederò una cosa in questo video, di mettervi la faccia, la firma, di metterci la faccia, di esporvi e di dare una risposta, così facciamo una sorta di sondaggio in questo video, ma soprattutto di scrivervi in questa zona, attivate la campanella numerosissime. Contest, un contest, vi faccio vedere un'altra maglia della mia collezione, eccola qui, la maglia motta, bella, bianca, scudetto, indovinate che nome ho messo qui dietro, vediamo chi ci arriva, ve lo faccio vedere tra poco, ovviamente commentate prima, ma il commento poi che vi chiedo sarà un altro, quindi innanzitutto se vi va commentate e vediamo chi indovina il nome che c'è dietro. A questa maglia, eh? Vediamo chi ci azzecca, tra l'altro sei giorni al rientro del campionato, sul mio profilo Instagram sto facendo il countdown, io ne ho messo la maglia di Sheva, sette, oggi metterò quella di Baresi, sei, sarà questa? Boh, chissà, non lo so, domani cinque costa curta e via fino a finalmente la partita tra Salernitana e Milan che ci farà riprendere la normalità di fatto anche con il Milan. Allora, ci sono tante novità che poi svilupperemo, non so se partire da che cosa, parto da questo, voglio dividere il video in due, perché sono ore caldissime per un aspetto e c'è anche una proposta che vi voglio fare, ragionando insieme a voce alta come ci piace fare. Direi, 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 direi che possiamo partire... io parto da questo. Secondo me, insomma, sappiamo che abbiamo fuori Menian e che è una grave perdita, sappiamo che ha saltato più di 20 partite, la proiezione dice che ne salterà magari una trentina, questo lo vedremo, dopo l'epifania ci saranno altri esami per capire quando potrà rientrare, però, però voglio dire una cosa, che può essere una pazza idea oppure no. Per quanto mi riguarda non è una pazza idea, è una proposta che rinnovo dopo che già avevo parlato di questo aspetto in un mio editoriale su Milan News. In questa sosta ci stiamo tutti interrogando sulla possibilità o meno che arrivi questo nuovo portiere, perché anche se c'è chi proverà a smentirlo, c'è chi proverà a mischiare le carte, bisogna essere molto sinceri, perché evidentemente non tutti si fidano ciecamente di Tataruzano, che è stato determinante in quella famosa parata a scudetto, per lo scudetto appunto in quella famosa parata derby su Lautaro Martinez, rigore non tirato male da Lautaro, ma parato da Tataruzano, che però qua e là non ha dato grandi garanzie rispetto a Menian e ha fatto degli errori qua e là. Ricordo, punizione in amichevole gol, punizione con l'Inter Eriksen gol, punizione con l'Empoli by Rami gol, anche con i piedi in amichevole dall'altro giorno, insomma. Tant'è che la partita dopo gioca a Mirante e qui arriviamo. Secondo me è un peccato che in questi due anni di assenze, quando ci sono state le assenze di Menian, non ci è stata data una vera chance a Mirante. Che è un portiere, sì, sicuramente, chilometrato, con i guantoni usurati, perché ha 39 anni e un 83 come me. Però, insomma, secondo me una chance la meritava. Poi vedremo domani chi giocherà, probabilmente giocherà Tataruzano, chi giocherà domani sarà anche il portiere nella gara del 4 con la Serenitana. Però io, in questo momento, voglio sottolineare alcuni aspetti. Il primo è che, se sui giornali, su YouTube, in televisione si è parlato di un nuovo portiere, è perché la dirigenza stessa non si fida tanto di Tataruzano. Che ogni tanto qualche rimbrotto se l'è preso da Chir lo scorso anno in campo, da Tomori in campionato quest'anno e anche in amichevole quando ha commesso quei due errori nella gara contro l'Arsenal. E questo significa che Tataruzano, la ripresa, potrebbe avere ancora meno sicurezza di quella che aveva prima, perché sa che è stato un po' messo in discussione. Io, abbiamo due elementi, partita con l'Arsenal e partita con il Liverpool. Questo disponiamo in questo momento. Con l'Arsenal, Tataruzano male. Con il Liverpool, secondo me, Mirante ha trasmesso più sicurezza. Io ero in telecronaca su Top Calcio e dicevo che personalmente, lontano migliaia di chilometri dalla TV, mi trasmetteva più sicurezza in ogni cosa, con i pieti, con le uscite, con le parate. Mi è sembrato anche il reparto mediamente un po' più sicuro. E io sono riconoscente a Tataruzano per quella parata nel derby, però non dobbiamo fermarci a quello, dobbiamo vedere che dopo c'è stato anche dell'altro. Poi i risultati sono arrivati anche con lui, ma ogni tanto no. Coltano quest'anno qualche responsabilità ce l'ha, ad esempio. Per questo io oggi voglio chiedervi di commentare qui sotto con una parola, con un nome, o meglio un cognome, da Tataruzano Mirante. Così che facciamo un po' un sondaggio caldo, pensateci magari qualche secondo in più, prendetevi qualche tempo in più e commentate qui sotto. Personalmente ritengo che, per quello che ho visto in queste due partite, Mirante mi rendi una chance. Mirante avrebbe diversi vantaggi. Intanto, l'obiezione. Intanto che, beh, italiano, per la questione di liste, a quel punto, insomma, potresti mettere nella lista Ibra, però doversi togliere Tataruzano, però magari Mignan rientra. In ogni caso, il vantaggio è che trasmette più sicurezza al reparto. Lo svantaggio è che ha 39 anni, è qualche anno in più. L'altro svantaggio è che effettivamente l'ultima partita che lui ha fatto, che ha giocato, è del... Dov'è? 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 La vado a recuperare subito. Allora, maggio 2021. Quindi un anno e mezzo è passato. Però è un giocatore di esperienza. Insomma, vista la discussione su Tataruzano, io proverai Mirante. Non mi aspetto che sarà così, però ve la voglio buttare lì questa considerazione. Non so, mi ha trasmesso più sicurezza. Poi chi giocherà domani giocherà anche il 4. Mi aspetto che sarà Tataruzano. Però lasciatemi dire che Mirante, secondo me, meriterebbe una chance. Quindi qui sotto scrivete Mirante o Tataruzano. Così vediamo se ci sono più Mirante o Tataruzano. È un giochino. Poi vediamo, insomma, le evoluzioni. È vero che il portiere, se non giochi da tempo, va in difficoltà. Dall'altra parte, però, Tataruzano non dovrebbe più entrare in difficoltà. Eppure ogni tanto lo fa ancora. Anche perché lui ormai ha giocato negli ultimi due anni, le sue 20 partite le ha fatte. Però c'è sempre qualcosa che... La disattenzione, l'uscita, l'apparata un po' così, la punizione... Boh! Sono sempre un po' perplesso. Dopodiché sono ore caldissime per il primo passo importante con cui speriamo di chiudere quest'anno. O meglio, l'ultimo passo importante con cui speriamo di chiudere quest'anno. Cioè il rinnovo di Ben Nasser. Ieri c'è stato Maldini a Milanello. Un saluto con tutti che, tra l'altro, quello con Ben Nasser è stato immortalato proprio dal fotografo del Milan. È pubblicato sui social. È sorgito da una parte e dall'altra. Ecco, da oggi ogni giorno è buono. Vediamo se si riesce davvero a chiudere, a trovare la fumata bianca entro la fine di quest'anno. Quindi oggi, domani, dopo domani mi sembra che si possa andare anche un po' oltre. Diciamo che oggi è una giornata che può essere significativa. Non abbiamo notizie in questo senso. Però potrebbe essere oggi la giornata. Sicuramente sono ore caldissime, con un nuovo summit atteso nelle prossime ore per provare ad arrivare alla fumata bianca. Dopodiché sarà il turno di Raffa Leao, per il quale ieri le indiscrezioni erano molto, molto positive. Ben Nasser, con un'offerta di Milan che andrà rivista a rialzo. Verranno un po' gestiti i bonus. Arriverà, insomma, ad essere prima di Leao il giocatore più pagato al Milan. Giocatore molto, molto forte, qualitativo, 25 anni, piena consapevolezza, maturità, standard che si sono alzati di molto. È il giocatore o il secondo giocatore che ha più recuperato palloni in Champions. E come dico sempre, vi annoierò, ma lo dico, lo ribadisco. Senza Ben Nasser le partite non si vincono. Con Ben Nasser si vincono. Leao le fa vincere, senza Ben Nasser non le vinci. E quindi vediamo se oggi può essere il giorno buono. Vediamo qui sotto se ha vinto il team Amirante o il team Tatarusano. Riconoscenza per Tata, ma in questo momento mi affiderei Amirante. Amirante, che mi sembra un po' più lineare, solido, tranquillante, ecco, un tranquillizzante, un tranquillante. Scegliete voi come definirlo. Più tardi ci rivediamo. Mi raccomando, prima di dirvi di che questa maglia, iscrivetevi qui, lasciate un like e commentate numerosi. Scrivetemi qui sotto se vi va, perché mi piace, vi sto appassionando incredibilmente le maglie del Milan. Voglio migliorare la mia collezione. E poi saranno tutte esposte nello studio che farò. Ditemi qual è la maglia che avete, cui siete più legati, se ne avete più di una. Questa non è la mia preferita, però eccola qui dietro il nome di Paolo Maldini, la numero 3. Che magari mi farò firmare da Paolo Maldini. Vi mando un abbraccio, iscrivetevi, chi non si iscrive ti fa zanetti, lasciate un bel like, commentate numerosi. Ripeto, commentate Tatarusano, Mirante, basta una parola secca, se volete argomentare va bene. Però meglio che la prima parola sia quella, così leggiamo e cogliamo con l'occhio l'immediatezza di questo sondaggio. Ci vediamo più tardi, detto che domani gioca al Milan e oggi meno 6 sul mio Instagram pubblicherò la maglia di Baresi. Meno 6 al ritorno in campo del Milan, mamma mia, è stata lunghissima, manca ancora qualcosina ma ci arriviamo. Vediamo se riusciamo appunto a arrivare alla quadra definitiva con Ben Nasser, sperando di raccontarvi oggi di ogni incontro. Vediamo che cosa succede, siamo pronti sul pezzo a monitorare Casa Milano ovviamente. Ci vediamo presto, ci vediamo più tardi, un abbraccione ancora a tutti. E tra poco facciamo tre anni di Milanello ragazzi, il 20 gennaio. Speriamo di arrivare a 87.000 iscritti, quindi iscrivetevi se lo avete ancora fatto. E se volete fare un regalo per il complano di Milanello fate iscrivere un amico, ne basta uno. Se chi vede questo video fa iscrivere un amico, davvero eh ragazzi, se ognuno di voi fa iscrivere un amico arriviamo oggi a 100.000 iscritti. Un regalo a Milanello va fatto. Ci vediamo più tardi ragazzi. Team Emirante, non me ne voglio a tata, ma io oggi in questo momento vorrei dare una chance a lui. Un abbraccio, a prestissimo.